Il sindaco di Capodorlando Enzo Sindoni è il nuovo presidente del Consorzio Turistico Costa Saracena. Sindoni è stato eletto ieri sera dall'Assemblea dei Sindaci del Consorzio, che comprende i comuni di Brolo, Ficarra, Naso, Piraino, Sant'Angelo di Brolo e Capodorlando. Vicepresidente del Consorzio è stata eletta Gina Maniaci, sindaco di Piraino, e la carica verrà rinnovata annualmente e affidata di volta in volta ad uno dei sindaci appartenenti al Sud Alizio. Il presidente di Costa Saracena è automaticamente anche il presidente del distretto turistico Tirreno Nebrodi, che raggruppa oltre 40 comuni, che ha il compito di promuovere le politiche turistiche del comprensorio. Nei giorni scorsi il sindaco di Ficarra, Basilio Ridolfo, aveva sollecitato l'elezione del presidente per scongiurare il rischio di perdere i fondi regionali legati al bando dell'assessorato regionale al turismo, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile. I termini per la partecipazione scadono nei primi giorni del mese di luglio, data entro la quale devono essere posti in essere sia i numerosi atti amministrativi per la composizione degli organi statutari e tecnico-amministrativi del distretto, e sia la progettazione delle diverse proposte che si intendono presentare per la partecipazione al bando regionale. Tre, gli obiettivi del neopresidente Sindoni. Il primo, proprio nell'ambito del distretto turistico, la cui presidenza tocca al presidente di Costa Saracena, è quello di non farci sfuggire l'occasione di questo bando comunitario, che ci concede 570 mila euro per una promozione unitaria turistica del territorio, un territorio vastissimo che va da Nicosia ai confini occidentali della provincia di Messina fino a Gioiosa. Il secondo impegno è quello di un rilancio dell'attività della Costa Saracena, quindi dei sei comuni che attualmente la compongono, e l'occasione è anche propizia per me per ringraziare i colleghi per la fiducia accordatami. E infine il tentativo, il desiderio, di riprendere a confrontarci con Gioiosa, che in virtù di una norma di legge che impone l'adesione non solo consorzio, alcuni giorni fa ha deciso di lasciare il sodalizio della Costa Saracena. Io credo che sia una riflessione che vada riaperta congiuntamente nel rispetto delle volontà politiche di chi amministra quel territorio, ma anche nella consapevolezza che le opportunità del futuro sono forse legate più all'utilizzo delle risorse che avranno dal turismo che alla gestione dei servizi, come altri consorsi invece determinano.